Ciao bambine, sono sempre io la vostra Clarissa e oggi farò la recensione di un altro film di Barbie che mi sono vista da piccolissima, che è uscito nel 2002 e sto parlando di Barbie Raperonzolo. Questo film è tratto dalla classica fiabba dei fratelli Grimm intitolata Raperonzolo, che viene detta anche la ragazza dai capelli lunghi. Non perdiamoci in chiacchiere e andiamo con la trama. Il film inizia con Barbie che racconta a sua sorella Shelly la storia di Raperonzolo. Ella è una giovane donna con i capelli lunghi che arriva fino al pavimento e vive come serva dalla malvagia strega Gold, che risiede in un castello magicamente isolato dai boschi e trova in compagnia in Penelope una giovane draghessa e di Ovi un coniglio e trascorre il suo tempo a dipingere i quali sogni ha di andare in posti molto lontani quando lei sarà libera. Godel disapprova questo e accusa Raperonzolo di essere ingrato nei confronti della strega per averla salvata dall'abbandono dei suoi genitori da bambina. Un giorno Raperonzolo e i suoi amici aprono un passaggio segreto nel semiterrato dove Raperonzolo trova un regalo dei suoi genitori naturali, una spazzola per capelli d'argento incisa con un messaggio. Io affermi l'ora amore per Raperonzolo, che la frase fa così Fermi in cielo come stella, figlia amata, figlia bella. Alla nostra adorata figlia Raperonzolo occupere il suo primo compleanno con nostro eterno amore mamma e papà. Raperonzolo mette in discussione le affermazioni di Godel del suo abbandono. Raperonzolo scopre anche un tunnel segreto sotto il pavimento e Raperonzolo ci si entrò dentro, conducendo al regno esterno. Fuori dal castello Raperonzolo salva la principessa Caterina da una trappola e con l'aiuto del fratello maggiore, il principe Stefan, lei dice che la trappola è stata messa dal re Guglielmo, il sovrano di un regno avversario che ha una faida in corso con il padre di Stefan, il re Federico. Raperonzolo si precipita via senza conoscere il nome del giovane, per evitare Godel la sua scomparsa. Tuttavia Otto, il furetto domestico di Godel, aveva seguito la ragazza e informa la sua padrona dell'incontro di Raperonzolo con quel giovane. Raperonzolo insiste sul fatto che non conosce il nome di quel giovane, non conosce il nome di quel giovane e Godel infuriata distrugge tutti i suoi dipinti e la stanza viene trasformata in un altatore. Con il padre di pennello, Peugo ha incaricato di assicurarsi che la ragazza non se ne va. Mentre Raperonzolo dorme, la spazzola magicamente si trasforma in un pennello. Quando Raperonzolo tenta di usare il pennello, disegnò un disegno nel muro e gli appare magicamente sul muro che scopre e funge da un portale. Raperonzolo lo usa per incontrare di nuovo il principe Stefan, anche senza il fatto di non dire il suo nome per paura di Godel. Il principe le fa un invito ad un ballo in maschera quella stessa notte, temendo che suo padre venga punito. Se Godel scopre che Raperonzolo è scappata, pennello per attraverso il portale e implana Raperonzolo di tornare immediatamente alla torre. La ragazza promette al principe che ci sarà al ballo al castello e Raperonzolo si dirige a un portale per la torre e torna con Penelope. Tornata alla torre, si dipinge un bellissimo vestito e sfortunatamente Otto ruba l'invito e lo porta alla sua padrona. Godel, saputo che Raperonzolo va al ballo, gli taglia i capelli e frantume il pennello e distrugge il portale del regno. Quando Godel la interroga per dire chi è il suo nome, Raperonzolo per la terza volta disse che non sa ancora il nome del giovane. E quindi Godel la impigionò con incantesimo nella torre, che pensa che Raperonzolo ha il cuore bugiardo. Ma con l'aiuto dei suoi amici, Raperonzolo riesce a scappare dalla torre perché lei ha detto sempre la verità e non ha mai mentito sul fatto di non conoscere il nome del giovane e Penelope li porta al castello. Al ballo, Stefano viene attirato fuori da Godel, travestita con i capelli di Raperonzolo nello stesso momento. Raperonzolo, ma nello stesso momento, Raperonzolo entra nel castello con l'intenzione di porre fine alla guerra con la forza. Guglielmo accusa Federico, ma poi Godel e Guglielmo si rivedono. E poi si spiegò tutto il fatto. Guglielmo aveva accusato il re Federico di aver rapito sua figlia tanti anni fa, ma il re Federico disse che questa era la millesima volta e non aveva mai rapito sua figlia. E Godel deve essere stata lei a prendere la figlia di Guglielmo, Raperonzolo, a caso del suo amore non corrisposto per lui. Raperonzolo arriva al castello e disse Tu mi hai tenuto rinchiuso in quella torre solo perché odiavi mio padre. E Guglielmo riconosce sua figlia. Raperonzolo inganna Godel facendo di imbattersi nel suo stesso dipinto nella torre, dove plenamente imprigiona per tutte le sue bugie. Godel disse a Ugo di farla uscire, ma Ugo disse che purtroppo la magia imprigiona solo una persona dal cuore bugiardo. e gli disse che Raperonzolo non ha mai mentito, ma Godel sì. Raperonzolo si unisce con i suoi genitori biologici e sposa il principe Stefan. La guerra finisce e i due regni si uniscono, mentre i suoni di libertà di Raperonzolo diventano realtà. Invece, Shelley, che si sente meglio, inizia a dipingere dopo che Barbie gli ha ricordato che la crività è la vera magia nell'arte. È una frase di Barbie che dice Quando dipingi i sogni non potrai mai sbagliare. Bene, bambine, so che questa recensione vi è piaciuta. Se ne volete un'altra mettete un mi piace e scrivete qualche commento. Ciao da Clarissa!